mi chiedo proprio come diavolo gli sarà venuto in mente di mettermi così vicine alle due parti del direzionale così la stampante sta riempiendo di schifezze mamma mia che disastro vediamo un po oh cavolo oh cavolo ho visto e giuro che è vero dei ragni fatti di ls di fare delle ragnatele completamente pazzesche ma sempre meglio di questa roba riusciremo a tirarci fuori qualcosa di decente proviamo proviamo non perdiamoci d'animo questa è la cosa più utile che ho stampato finora bisogna fargli la barba il barbiere di silvia figaro qua figaro infatti ecco qui il disastro che viene fuori beh questa è la parte già ripulita questa è quella che dovremmo metterci lì con santa pazienza a far la barba insomma leggero è leggero io sono molto soddisfatto ma sono anche veramente tanto tanto sconcertato dalla quantità assurda di materiale appiccicato che mi sono ritrovato sarà normale magari non lo so lo dico non ho esperienza di stampa è la mia prima volta una cosa che dovremmo anche fare qua è togliere i supporti vediamo qua ci sono i supporti ma questo sarà banale verrà via facile immagino se così non fosse lo scopriremo mamma mia cosa dirà la bilancia dopo tutto sto caos che ho piantato in studio adesso dovrò passare aspira polvere anche dentro la bambula se dice 35 grammi potrei piangere 19 quindi cavolo abbiamo risparmiato un bel po uno potrebbe pensare che 16 grammi non sono poi tanti ma 16 grammi in coda invece non sono per nulla da sputarci sopra vuol dire poter mettere meno zavorra avere un aeroplano in generale più leggero e quindi per un aliante tutto sommato volare meglio poi alla fine lo stiamo facendo per questo per volare e quindi per ora attacchiamolo con lo scotch perché c'è tutto il meccanismo interno da fare le cerniere le cose e godiamoci come sta venendo il nostro meraviglioso aeroplano alla fine sul piatto spazio ne abbiamo gli mettiamo entrambi i timoni di profondità nello stesso piatto e adesso andiamo a vedere che cosa verrà fuori secondo me verrà fuori un ipertricosi veramente micidiale oh ma te l'ho già detto di mettermi un mi piace dai non ci vuole niente lo faccio io per te guarda clic mi piace grazie questa è l'unica soddisfazione che resta a noi poveri peones che non saranno mai influencer che a noi quelli dei pandori non ci danno neanche le briciole almeno vedere qualche mi piace facendo due semplici conti tutti i timoni profondità e direzione le parti mobili avrebbero dovuto pesare 111 grammi invece così facendo siamo rimasti in 57 abbiamo risparmiato più di mezzetto sembra poco ora sono attaccati in modo assolutamente provvisorio nella prossima puntata vedremo come fissare per bene le parti mobili non è una roba semplice e richiede qualche trucco e qualche attenzione per cui non ti perdere la prossima puntata per il momento ciao